Devi vedere che faccio. Fanno al mattino. Devi provare le gocciole. Fai la prova. E vedrai che funziona. Giura. Devi provare le gocciole. Devi proprio provare le gocciole pavesi. L'energia delle gocce di cioccolato in un biscotto di gustosa pasta frolla. Dici che funziona anche su una mamma. Sono o no la tua migliore amica? Gocciole pavesi. Che gusto avrà la giornata? Si decide a colazione. Devi provare le gocciole.